La nuova giunta a Montesilvano, già presentata ieri in Consiglio Comunale, rispetta come meglio si è potuto gli equilibri della coalizione che ha vinto le elezioni con esclusioni eccellenti, se pensiamo alla sua origine chiaramente di centrodestra, ma prevedibili se pensiamo a ciò che è accaduto a Montesilvano in piena campagna elettorale quando una forza politica importante come la Lega ha cercato di smarcarsi dall'indicazione di De Martinis come candidato. All'inevitabile resa dei conti dunque si scopre che nella nuova giunta non ci sono rappresentanti del carroccio. I numeri dicono che la Lega ha un solo consigliere, le altre liste hanno avuto invece 6G in più e peraltro se si parla in termini di numeri non è la Lega magari a dover recriminare qualcosa ma forse la mia lista che è stata penalizzata e due ottimi elementi quali Manganiello e Tocco che hanno avuto un ottimo risultato elettorale sono rimasti fuori dall'esecutivo. Loro sì avrebbero potuto e avuto da recriminare ma con senso di responsabilità e con quella collaborazione che chiedo da anni hanno fatto assolutamente un passo indietro e oggi sono qui in consiglio comunale senza polemizzare e senza insomma rivendicare posizioni che numero alle mani loro avrebbero avuto modo di rivendicare. La Lega con un consigliere può dare il suo contributo mi auguro che lo faccia qualora non fosse così vuol dire che andremo avanti con i restanti consiglieri comunali che sono davvero tanti. E la nuova squadra dunque composta dai due candidati più votati Francesco Di Pasquale e Lino Ruggero oltre a Valentina Di Felice per Fratelli d'Italia per Forza Italia i due assessori uscenti e riconfermati Paolo Cigli e Alessandro Pompei oltre ad Alice Micone che entra in virtù delle quote rosa. In giunta anche Corinna Sandias dalla lista civica Montesilvano Sceglie. Vice sindaco sarà Paolo Cigli mentre il presidente del consiglio comunale sarà Walter Cozzi. Quota Forza Italia. In base a questa composizione previsti nuovi ingressi in consiglio comunale per la surroga Deborah Comardi, Giuseppe Menè, Marco Forconi per Fratelli d'Italia, Paolo Di Blasio e Remo Scarcella per Forza Italia e Danilo Polumbo per la lista Montesilvano Sceglie. Il quadro era delineato anche sulla base di un elemento che dovrà contraddistinguere e contraddistinguerà la nostra azione amministrativa che è quella della continuità non soltanto per quello che riguarda i progetti cantierati e da concretizzare ma anche per quello che riguarda gli attori appunto di questa di questa azione tanti dei quali sono appunto quelli che con me hanno lavorato e bene in questi anni.